Eccoci, ci siamo, ci siamo, sì, siamo, buonasera a tutti i nostri utenti, siamo molto, molto emozionato di questa, di solito, su Italia che cambia, paradossalmente il mio volto non è tra i più noti perché sto dietro le quinte, diciamo, sono quello che monta i video, che fa i video e non sono molto abituato allo streaming, a mettere, ad esserci in prima persona stasera, è una bella occasione, dato che un po' io lo ti cambiamento, ti messo in discussione, è una bella occasione per mettersi in gioco, mi fa molto piacere fare questa diretta e questa intervista con Sandro Formiga, che è il nostro ospite di stasera, benvenuto Sandro. Grazie, grazie per avermi invitato. Grazie a te che non ci parla dall'Italia ma ci parla dagli Stati Uniti, da Miami per la precisione, faccio una piccola introduzione Sandro per presentarti, da anni abbiamo deciso insieme anche di fare questa prima diretta perché Sandro si occupa di felicità, per la precisione di scienza della felicità tra le sue varie azioni e mansioni, insegna la scienza della felicità e delle organizzazioni positive negli Stati Uniti ma anche in Italia, si divide tra Stati Uniti e Italia e siccome come giornale a noi Sandro ci piacciono un po' le sfide perché abbiamo fondato Italia che cambia cercando di parlare, di introdurre, di far conoscere le persone un altro volto nel nostro paese, forse non ho dati per dirlo ma forse siamo uno dei paesi con la più bassa autostigma al mondo, no? Spesso viene ad emergere un'immagine dell'Italia che è una parte d'Italia ma ce n'è anche un'altra e la testiamo tutti i giorni, quando si poteva incontrandola in questo momento però, ascoltandola e scrivendone che esiste anche un'altra faccia nel nostro paese che non è solo quella di l'immagine di corruzione, di decadenza che viene sempre data solitamente dai media. Doppia provocazione che in questo momento molto difficile per tutte e per tutti, andare a parlare di felicità è stato questo Italia che cambia, lo vedo proprio come una buona, una positiva provocazione. Sandro sostiene, non solo lui da tempo, l'ho conosciuto tramite Tupi Eppi, è stato il nostro meme su Italia che cambia, Daniela Di Ciaccio, Berlusca Gennari e sta pubblicando, correggimi se sbaglio, articoli accademici in centinaia di riviste accademiche diciamo in tutto il mondo, sta diffondendo il concetto della scienza e della felicità, non solo dunque la felicità in chiesa come concetto diciamo come ambizione, come auspicio ma proprio lui sostiene che sia proprio una scienza e che si può mettere in pratica tutti i giorni, uno dei molti è proprio che la felicità è soprattutto un lavoro interiore. Dunque io ti lascerei la palla dicendo, ti lancerei questa palla virtuale chiedendoti se ci puoi presentare cosa intendi per scienza della felicità, cos'è questo concetto curioso. Grazie, grazie Paolo. Allora innanzitutto una piccolissima correzione, io ho diverse pubblicazioni su riviste accademiche ma fanno parte della mia vita precedente, erano più nel management e nel marketing in altri aspetti. Ho iniziato, verrà fuori una pubblicazione tra poco su una rivista accademica per quanto riguarda la felicità e la chimica della felicità, quindi poi ne parleremo quando ci sarà effettivamente su carta. Per il resto c'è molto molto contenuto, quindi molto materiale dal punto di vista della felicità come la interpreto io, sempre sulla base supportata dalla scienza, però è una interpretazione un po' diversa, nel senso che è bastata molto sul lavoro sul sé, perché è un dato di fatto che la felicità quando cercata in momenti spot o coltivata con una metodologia che non tiene conto del lavoro che tu hai fatto su te stesso non è così solida e così radicata come potrebbe essere invece quando uno riesce effettivamente a lavorare sul sé, perché la felicità è uno stato dell'essere e questo è molto molto chiaro. Tra l'altro è uscito non tanto tempo fa, nell'anno scorso, un bellissimo documentario sulla felicità che è con Amazon Prime che proprio specifica la felicità è uno stato dell'essere, non è un'emozione, cioè la possiamo considerare anche un'emozione perché è un'emozione positiva, ma in realtà è uno stato dell'essere che richiede una disciplina, quindi l'emozione positiva ci deve essere come componente, ma questo è quello che sanno tutti e mi sta bene, ma c'è un altro elemento che tendiamo a non considerare, ma che invece è essenziale, è che è quello dell'impegno, quello dell'impegno a essere felici e poi il significato che noi diamo nella vita nel coltivare questa felicità, cioè non deve essere un contenitore vuoto, ma un contenitore nel quale diamo un significato particolare, un'importanza particolare e quindi c'è un elemento che è molto molto vicino al proposito della vita. Perché facciamo certe cose? Che significato diamo alle cose? Sono molto appassionato di questo libro di Viktor Frankl che parla del significato che diamo alla vita, perché è uno dei rarissimi casi che sono riusciti a scappare dai campi di concentramento dove lui ha deciso, 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 ecco la decisione, l'impegno di vedere la vita, utilizzando le sue capacità del cervello, era già una psichiatra allora quando è stato, ha avuto questa esperienza, di prenderla da un punto di vista diverso e dire guarda, mi hanno tolto tutto, però c'è però c'è una cosa che non mi toglie, i vestiti, tutto, non ho più niente, libertà, eccetera, ma c'è una cosa che non mi hanno tolto ancora, che è la testa. Allora con quella posso andare dovunque, posso fare qualunque cosa. Poi è diventato uno dei libri di testo nel Canceling Psychology, lo citano continuamente perché comunque ha questa teoria applicata, esistenziale che è molto molto forte, proprio perché c'è l'impegno dietro. Ecco dove secondo me noi manchiamo a volta sull'impegno e ecco perché diciamo che la felicità va allenata, è un muscolo che va allenato. Ci impegniamo ad andare in palestra, ci dobbiamo anche impegnare per andare nella palestra del cervello e quindi la palestra della felicità se vogliamo. Sì, culturalmente abbastanza abituati, senza cadere in generalizzazioni troppo riduttive, però effettivamente sono cresciuto una vita sul fatto che è un po' una variabile imprevedibile. Ci nasci, c'è chi nasce più allegro, c'è chi nasce più con questa attitudine. Spesso si pensa così, è un po' una novità, adesso da un po' di anni, ma è un po' una novità interpretarla proprio come una competenza da allenare giorno dopo giorno. Per fortuna questo concetto si sta diffondendo sempre di più. Una domanda che volevo chiederti è come si allena la felicità, cioè come possiamo metterla, nonostante, soprattutto in questo, soprattutto in un periodo come questo, c'è molta difficoltà, cioè è anche un grande momento di scoperta, ma non possiamo anche riscopertare di noi, ma non possiamo nasconderci, che è anche un momento in cui siamo messi a dura prova con noi stessi e con i nostri cari, che ci sta vicino, insomma un periodo molto particolare. Tu come, cioè leggendo e conoscendo un po' la tua la tua opera, mi sono incappato in questa scienza del sé, in questo lavoro che stai portando avanti. Ti ho fatto un po' un calderone la domanda, però è come si allena la felicità ogni giorno? Allora Paolo, la prima cosa che ti chiedo è, senti molto rumore perché stanno facendo lavori proprio fuori di casa e volevo chiederti se c'è un problema da questo punto di vista. Sento un sottofondo sotto, ma molto basso e non vedo commenti al momento. Oh, benissimo. Però senti, io poi con queste cuffie astronomiche ti sento bene, se c'è qualche problema ascolti. Me lo dici, molto bene, perfetto. Allora, come si allena? Allora, ci sono ormai studi da metà degli anni Ottanta che confermano in maniera indiscussa che ci sono delle pratiche che aumentano la felicità. Sono pratiche del perdono, sono pratiche di gratitudine, sono pratiche che ti permettono di apprezzare più i momenti belli della vita e di invece mettere in sottofondo i momenti meno belli, se vogliamo. Ora, e queste sono pratiche delle quali possiamo tranquillamente parlare, il modello che utilizzo io, che è quello quindi della scienza del sé, è un modello che dice, guarda, la felicità si allena, ma si allena su certe basi, come se tu decidessi, ok, io mi voglio allenare per diventare un corridore. Eh, allora, ok, corridore, parliamo, correre a piedi, ok, allora devi prendere le scarpette giuste, devi avere le scarpe da corsa. Eh, se invece parliamo di bici, devi avere una bici giusta. Ecco, secondo me saltiamo quell'elemento, cioè l'elemento della base. La base che cos'è? La base è una consapevolezza del sé, degli aspetti dell'essere, visto che siamo esseri umani, dovremmo sapere gli aspetti dell'essere, invece di sapere, conoscere molto bene e praticare quelli del fare, che senza di questi la felicità potrebbe esserci generalmente effimera, non tiene, non riesce a tenere. E quali sono questi elementi? Allora, questi nascono da una mia esperienza di sofferenza personale, da un mio percorso di sofferenza, ok, che poi è, man mano che io continuavo a testare questi tipi, che adesso ti dico, di competenze, poi mi sono reso conto che la scienza le supportava, in tutto e per tutto. Allora mi sono detto, accidenti, ma allora fammi capire, il mio percorso non è il mio solo, è un percorso che comunque è stato oggettivamente supportato nei suoi singoli elementi. Andiamo in pratica. Tu non puoi essere felice e di una felicità sostenibile nel momento in cui tu non soddisfi, tu hai bisogni. Tu mi dirai, mi hai bisogni di soddisfo, mangio, dormo, ho un tetto sicuramente, in questo periodo ce l'abbiamo tutti. Molto bene. Ok, e quindi mi hai bisogni, no, io ti parlo bisogni di sicurezza emotiva, bisogni di autoconsapevolezza, di supporto, bisogni di amor proprio. Questi sono bisogni essenziali che se non riusciamo a soddisfarli, noi continuiamo a vivere con una chimica della sopravvivenza. La chimica della sopravvivenza, che cos'è? È quella chimica che ti fa guardare un po' il tutto e tutti in maniera sospetta. E questo è il periodo, se vogliamo, per questo che, no, tanti dicono, ma stai a pensare alla felicità adesso? E quando ci pensi? Quando sei felice? Ma quando sei felice, sei già felice. Ma che discorso? Ma ci devi pensare ora. È questo il momento, è il momento più giusto, è ora. Cioè, veramente, il non capire questo, ma allora che dobbiamo fare? Dobbiamo essere dediti alla sofferenza? Non capisco. Quindi in realtà è proprio qui che dobbiamo allenare questo muscolo, perché in questo momento siamo in atrofia. Se perdiamo il contatto con questo muscolo non possiamo farlo. No, è come dire vado in palestra quando sarò forte o muscoloso. Eh no, vai proprio in palestra per diventare forte o muscoloso. È quando ti manca una cosa che la devi allenare. Per me è semplice. Però, come hai condiviso tu, non è poi semplice, così semplice nell'accezione comune. Quindi, in realtà, quello che ti volevo dire, allora, riusciamo a soddisfare tutti i nostri bisogni. E guarda, credimi, non è così semplice come pare. Perché quando io ti parlo di bisogni di sicurezza, se io mi devo aprire, veramente aprire, perché ho bisogno di aprirmi in questo periodo, sono qui solo, ho bisogno di aprirmi. Se io non scelgo te, per esempio, per condividere i miei bisogni di aprirmi, di condividere, di condivisione, vuol dire che tu, per me, non sei il simbolo della sicurezza. Cioè, non mi sento sicuro di farlo con te. Ok, benissimo, non mi sento sicuro con te, non mi sento sicuro con quest'altra persona, con quest'altra. Allora io vado in sopravvivenza. Quando io vado in sopravvivenza, il sangue mi va tutto all'estremità. Perché? Perché devo scappare o reagire. Ma in realtà il sangue io lo devo tenere nella parte più importante di me, la parte assolutamente che sono tutti i miei organi vitali e la testa. Vedi, la scienza ci dice che per la stragrande maggioranza della giornata, noi siamo in sopravvivenza, pre-coronavirus. Pensa ora, pre. Perché siamo agitati e pensierosi. Ogni volta che ci preoccupiamo siamo in sopravvivenza, perché immaginiamo un evento futuro che non vogliamo. Ma questo è un tratto ereditario, vero? Questo è un tratto ereditario, vero, che ci portiamo dietro? Allora, è un tratto ereditario perché chiaramente adesso andiamo ai nostri antenati, degli antenati, degli antenati, quando vivevano in mezzo alla foresta e allora c'era chi sentiva un rumore, da qualche parte non vedeva magari l'animale feroce, però pregava e faceva aum e poi veniva mangiato dall'animale feroce. Mi segui? Quello che invece iniziava a scappare in qualche modo è sopravvissuto e quindi è diventato il nostro antenato. Quindi noi abbiamo delle antenne particolarmente sensibili dal punto di vista degli aspetti negativi della vita. E lo fai benissimo, perché voglio dire, lavori con i media e siete proprio nati per contrapporvi, credo, a quel media che utilizza quello strumento per tenerti sempre attaccato. Quindi questo è chiaro. Ora, il compito della vita, del nostro corpo, della nostra chimica è di tenerci in vita, non di essere felici. Ripeto, il compito della nostra biochimica è quello di farci sopravvivere. Questo è il compito, così ci riproduciamo e continuiamo a sopravvivere. Rocco dice che non c'è audio, è possibile? Tu lo senti? Tu mi senti? Io ti sento bene, sì, ti sento molto bene. Allora, ti ripeto, noi siamo fatti per la sopravvivenza, poi abbiamo la scelta, la scelta di essere felici e questa scelta dipende da noi. Perché la natura arriva fino a un certo punto e poi ti dà tutti gli strumenti per andare ancora più avanti, ma quegli strumenti non sono in automatico. Quegli strumenti li devi in qualche modo coltivare tu. È quella la differenza. Ecco allora perché i tuoi bisogni devono essere soddisfatti. Ok, soddisfi i bisogni, molto bene. Allora immaginati che tu per te il tuo valore principale, un po' come il mio, è la crescita. Allora vai al lavoro, fai le stesse cose, nello stesso modo, hai un boss che non ti ascolta quando proponi qualcosa di nuovo, di dare qualcosa di più. E allora tu dici, ma come? Ferma un attimo, io non sto bene, c'è qualcosa che non va, i miei bisogni sono soddisfatti. Però c'è qualcos'altro che non funziona. Ritorno a casa la sera un po' scontrosco, non sto bene. Che cosa c'è? Che cosa c'è? È naturale. Hai dei valori, cioè delle cose che per te sono assolutamente prioritarie e importanti nella vita, ma passi otto ore al giorno non essendo allineato a quei valori. È chiaro che torni a casa che non stai bene. Ma come fai ad essere felice in quei casi? Me lo dici, Paolo? Perché se no io non capisco. Non puoi essere felice. Oppure hai momenti di felicità. Ok, vai a bere, fare un drink con gli amici, sei felice. Ok, bene, è post lavoro. Ma in quelle otto ore di lavoro come stai? Perché tu non coltivi i tuoi valori e inizi a creare dei task, dei compiti all'interno del lavoro o cambiare il lavoro e essere sempre più felice anche quando stai lavorando. Io ti devo dire che in questo periodo e altri raggiungo il picco della felicità quando lavoro. Perché faccio un lavoro che è perfettamente allineato i miei valori. Ecco, questo per dire a te e a chi ci ascolta che tutti gli esercizi di felicità sono importantissimi, non c'è dubbio. Ma se tu non non crei una base solida che passa per questi nove livelli della scienza del sé, per me, per il percorso che ho fatto, per quello che dice la scienza, poi ci saranno altri metodi, non c'è dubbio. Ma questo metodo che funziona ti permette a questo punto di creare quelle basi per poi essere felice. E infatti al mio corto universitario di potere personale e autoconsapevolezza, quello che mi dicevano i studenti durante l'ultima ora delle 45 ore passate insieme, quando gli chiedevo di darmi un feedback, si alzavano, si mettevano di fronte a tutti gli altri studenti e la parola più utilizzata era ed è felicità. Mi sento più felice. E' certo, perché hai finalmente il controllo di te stesso, hai sviluppato delle potenzialità che erano lì dentro e stavano lì ferme perché non avevi mai fatto degli esercizi del genere. Erano quelle parti di te che erano lì ferme, stagnanti, morte e che tu hai in qualche modo, gli hai ridato vita, le hai riannaffiate, gli hai dato del sole, le hai fatte crescere di nuovo. Ecco, noi siamo in una situazione in cui il se non viene studiato. Studiamo fino ancora prima dell'università 20.000 ore e non studiamo un'ora noi stessi e poi dopo ci lamentiamo che le cose non vanno bene. E certo, ma prima lavora su te stesso e fai questo percorso, poi dopo ne parliamo. Trovati un proposito e utilizza la tua intelligenza emotiva per rafforzarti nei rapporti con gli altri, utilizza la tua immaginazione per iniziare a pensare e a creare il tuo futuro se. Tu pensa che bello adesso che abbiamo tutto il tempo che vogliamo per pianificare la vita post virus, cioè immaginarla. E Harvard Business Review ci dice che quando, che noi dobbiamo, you need to practice your future self, hai bisogno di praticare il tuo futuro se, non lo dice Formica, lo dice Harvard, che devi praticare il tuo futuro se, perché quello che io faccio oggi, di cosa faccio oggi, raccolgo i frutti domani. Quindi io devo essere consapevole che, che quello che faccio oggi porta una certa responsabilità nel futuro e crea la mia vita di domani. Quindi ci devo anche stare attento. non solo la mia ora, nell'era del coronavirus, ma di tutti. Ma questo succede sempre. Perché questo è un virus, non lo vediamo ma ne subiamo le conseguenze. È la stessa cosa col pensiero, è la stessa cosa col cuore. Ci influenziamo tutti, c'è poco da fare. E spero che questa esperienza del virus ci ha fatto capire che noi non dobbiamo fare solo questo lavoro sul sé per noi, ma proprio per la comunità che ci circonda. E questa è una cosa molto importante. Prima accennavi ai ai vari step della scienza del sé, sicuramente ci vorrebbe una giornata per andare, per approfondire. il fatto che c'è una curiosità, se posso chiederti spesso una resistenza rispetto a questo tema, è sì, è una cosa, chiedo anche in base alla tua esperienza, che questa felicità è una cosa che non è per tutti, e per tutte, cioè dipende da troppi fattori esterni, per la quale se poi a livello di esistenza quotidiana, di routine, non teneva bene una, è impossibile poter applicare determinati strumenti. Per la tua esperienza è vera questa cosa, cioè la facilità è potenzialmente per tutti oppure no? Allora, è proprio perché quando non teneva bene una, che per esempio utilizzi uno degli strumenti della felicità, che è la gratitudine, no? Cioè non teneva bene in una, ma c'hai casa? Sì, ok. Stai mangiando? Il pancino è pieno? Sì, va bene. Perché non facciamo questo ragionamento ora fondamentalmente, che non possiamo uscire, non possiamo far questo e quest'altro, ma ci sono delle persone che si lamentano, delle persone che, quelle che si lamentano, ricordati, sono in sopravvivenza, non pensano ad altro, coltivano questo aspetto, queste caratteristiche, si concentrano su quello che non hanno e perdono il focus su quello che hanno. E invece lo sai benissimo, cioè i commenti sono o a lamentarsi di quello che non hai, oppure a essere grato di quello che hai. La decisione è solo quella da fare. Ora, le persone, faccio fatica a coltivare la felicità, ti dico un'altra cosa, le persone che si impegnano, ma seguimi, si impegnano a livello di voglio essere felice, voglio essere felice, voglio essere felice, sono tra le persone meno felici. Quindi, in realtà, quel modello non funziona. Funziona il modello di essere consapevoli che siamo in controllo della nostra felicità e la possiamo alimentare. Ma come quando andiamo in palestra, se pensiamo ad andare in palestra un'ora e non ci eravamo stati per due anni e vogliamo vedere il bicipite così grande, allora, voglio dire, non è il caso. È un percorso, è la vita che è un percorso. Quindi fai questo percorso e nel farlo inizia a notare i traguardi. Ora, ci sono delle persone, la scienza ci dice che c'è un 50% di genetica sulla felicità. Molto bene. Allora, ci sono delle persone che nascono felici. bambini che sorridono, continuano a sorridere. Io ho una parente che, guarda, è una persona fantastica che ancora adesso, qualunque cosa gli succede, che sarà mai. C'è sempre una soluzione. Vai tranquillo. Va bene. Ma a lei poi che succede, non agli altri. Ma è di una positività di un... Non lasciare andare come non interessa. Ci tiene molto alle altre persone. Ma è serena. Ecco, non la influenza. E quindi lei ci è nata in quel modo. Io non ci sono nato in quel modo. Io sono nato triste. E se tu vedi le mie fotografie da piccolo, sono queste foto di bambino triste. Al massimo neutre. Ma che sorrido, no. Ok? Io sono nato triste. Che succede? Allora dice, eh, però purtroppo la genetica. No. Fermo nato. C'è, oltre a quel 50%, un 10%, che sono le situazioni della vita. Si muore qualcuno, caro, eccetera. E' chiaro che la felicità, boom, non ti viene istantaneamente. C'hai dei periodi che è anche giusto che sia così. L'altro 40% è tutta in mano nostra, completamente. Ma non è che ci raggiungiamo solo il 40% della felicità. Quel 40%, quando coltivato, ti porta alla felicità. Quindi, nel mio caso, io l'ho dovuta allenare. Perché io non ero felice. Non c'è niente da fare. Non lo ero. E una persona che nasce felice, vive felice, poi è anche difficile di dirti come fare a essere felice. Perché c'è nata. È difficile. Se uno invece fa un percorso, allora ti può aiutare a capire, soprattutto quando quel percorso poi è supportato scientificamente. Mentre parli, ti dico anche una cosa del mio e del nostro percorso come Italia che cambia. Mi vengono poi in mente le varie persone incontrate, no? Uno dei molti proprio di Italia che cambia è incontrare le persone che, piuttosto che lamentarsi del problema, hanno preso in mano la propria vita e hanno trasformato la propria vita, spesso mettendo in piedi progetti che risuonano e che, in pratica, è un sinonimo un po' di ricercare la felicità, no? Anche quello di cambiare strada e cambiare percorso. È una curiosità che condivido con te e che, nonostante le milioni di difficoltà, perché i progetti che andiamo a incontrare, belle notizie, e belli, fantastici, bellissimi, meravigliosi, però non è che sono processi che non portano anche un lasso di sofferenza con sé. I problemi non mancano, no? Nei progetti che raccontiamo spesso si scogliano, si scontrano con problemi e scogli molto importanti. Il problema è che non c'è solo quella parte, c'è anche un'altra parte, c'è anche la voglia di realizzare e di, come dicevi prima, trovare un senso del sé, un senso di realizzazione, un senso di felicità in quello che uno fa in otto ore. Ed è molto bello, mentre parlavi, ricordavo un po' le varie facce incontrate di queste persone che, nonostante tante difficoltà, si sentono poi, anche con meno soldi, spesso, anzi, la maggior parte delle volte, con meno soldi riescono a sentirsi. Le altre che abbiamo incontrato stavano meglio, nessuno sarebbe tornato indietro. E dunque è vero che anche metterti in gioco, io l'ho provato, lo sto provando, e noi lo stiamo provando come giornalisti incontrando centinaia di persone che fanno questo percorso. Infatti ti volevo dire qualcosa su questo. Voi penso, tutto il vostro gruppo viene da altre esperienze, chiaramente, no? L'Italia che cambia è nuova, relativamente nuova, quindi comunque ci siete... È stata tanta la dedizione per cui poi alla fine vi siete trovati sotto un proposito comune. Ma vedi, come fai a sapere questa cosa se non sai nemmeno qual è il tuo proposito? Perché anch'io ho cambiato la mia vita completamente, no? Prima insegnavo delle cose che ora non insegno. Prima insegnavo turismo, ospitalità, che ora non insegno. Ma qual è la ragione? Perché ho fatto il mio percorso e ho capito veramente che cosa era giusto fare per me, che cosa era in allineamento ai miei valori, che cosa mi aiutava ad andare più vicino, avvicinarmi al mio proposito. E quello poi ti dà la forza per essere te stesso. Ma quando sei te stesso, perché sei triste? Cioè, puoi avere mille ostacoli, perché immagino che tutti voi abbiate incontrato mille ostacoli per creare un'organizzazione del genere. Ma non ti fermi, ti dà anche la resilienza, che è esattamente quello di cui abbiamo bisogno ora, la resilienza. Allora, vedi che sono tutte collegate. Per me sono tutte facce della stessa medaglia. Ma alla base devi avere almeno una coscienza di quello che vuoi, di quello che sei. E allora è da lì che parti per poi fare questo percorso. Poi, la felicità e la resilienza, io quasi non le distinguo, perché non c'è resilienza senza felicità. E non c'è felicità senza resilienza. C'è questo abbinamento, nel senso che quando tu sei felice, continui. Quando tu hai un proposito, chiaro, vai avanti, a prescindere da quello che ti dicono gli altri. Quando tu ti allinei ai tuoi valori, non stai lì a sentire gli altri e andare dove va il vento. Hai la tua direzione, gli altri ti possono dire tutto quello che vogliono, non ti interessa. Li apprezzi per il loro contributo, ma poi vai avanti. E' questa la bellezza che secondo me è così importante, soprattutto ora. Soprattutto ora ne abbiamo tanto bisogno. Però non è un lavoro facile, non è un lavoro da cinque minuti. E le persone non hanno pazienza. Non hanno pazienza nemmeno nel caso in cui tu le chiedi dentro casa. E allora è qui che dobbiamo fermarci a riflettere e dire vogliamo veramente farlo? Perché non possiamo poi pensare che gli altri ci diano tutta l'attenzione che vogliamo. Non pensiamo pensare che gli altri ci diano tutto l'amore che vogliamo o il supporto che vogliamo. Quando noi non lo diamo a noi stessi, quando sappiamo che c'è da fare questo lavoro, ma non lo facciamo. Certo. Prima di passare alla resilienza ti volevo chiedere solo una cosa in più, una curiosità in più. Ho letto che il tuo lavoro insegni, ma hai anche delle proposte per quanto riguarda aziende, scuole, università. Come la felicità può entrare in queste organizzazioni. Dunque, ero curioso di chiederti la tua esperienza su questo. Guarda, l'insegnamento è sempre presente, per me è fondamentale, ma sta diventando una piccola parte, se vogliamo, della mia esperienza. Perché? Perché se andate a vedere il mio sito, il mio proposito è quello di incorporare, di integrare la felicità attraverso la scienza del sé in tutte le organizzazioni del mondo. È chiaro che se io me ne sto chiuso con il mio gruppetto di studenti non riesco a realizzare il mio proposito. Quindi mi sto muovendo sotto diversi aspetti. Quando parli delle aziende, sai quante aziende vedo che per esempio hanno un codice etico, un codice dei valori, un codice chiaro? Poi quando vai in profondità, non lo mettono in pratica, cioè quando vai in profondità, le azioni, le operazioni, il lavoro all'interno dell'azienda non è basato su quei valori. Ma allora non solo fai un danno perché praticamente hai lavorato su un qualcosa che di solito ti è costato del denaro, del tempo, del sacrificio, delle consulenze, ma poi non lo metti in atto. Ma la cosa più devastante è che poi i tuoi collaboratori che ci credevano poi si svegliano e capiscono che in realtà tu non lo stai facendo, per cui si sentono anche traditi. E allora è ancora peggio. Ecco, quindi nelle aziende, la scienza del sé, se le aziende sono fatte di persone, è una cosa inevitabile. Cioè voglio dire, nel sistema azienda, il fatto di soddisfare i bisogni, tu dimmi se ci sono aziende che nel tuo colloquio, mentre ci parli, sei bravissimo, hai tutte le tue caratteristiche, le caratteristiche che stanno cercando, e poi ti fanno, senta, quali sono i bisogni che lei vorrebbe soddisfatto al lavoro? Non esiste un'azienda che ti fa questa domanda, non esiste, ma è pure essenziale, perché io so che quando i tuoi bisogni non sono soddisfatti, sei al lavoro, tu produci di meno. Per cui voglio dire, perché non ti faccio sta domanda, te la devo fare, no? E poi diciamo che i tuoi bisogni, tra l'altro ho scoperto in Italia, e questa non è una ricerca scientifica, ma ogni qualvolta avevo un pubblico, gli chiedevo qual è il bisogno meno soddisfatto, più importante per te nelle aziende italiane, il bisogno di riconoscimento. Paro, paro, e non mi riconoscono, benissimo, ok. Cioè, allora se io lo faccio al colloquio, se scopro durante un colloquio per un'assunzione che io ho questo bisogno, io che sto dalla parte dell'azienda ti dico subito se te lo posso dare o meno, se non te lo posso dare puoi essere più qualificato, ma io ti devo dire di no, perché è inutile che tu vieni e poi ti lamenti o non stai bene, perché non mi produci, hai capito? Quindi, lavorare, ok, allora questo è il bisogno, perfetto. Allora inizio a pensare io, chi è che può soddisfare quel bisogno? E inizio a creare una pianificazione al lavoro sulla base della soddisfazione o non soddisfazione dei bisogni. Facciamo questo percorso e nel contempo non ti misuro solo il bisogno, ma ti misuro anche la performance, ok? Partiamo con la tua performance ora e poi man mano che i tuoi bisogni sono più soddisfatti, speriamo, e arrivano al 100% la soddisfazione, noto quanto è più la performance. E sicuramente la tua performance cambia e questo è inevitabile. Quindi vedi i valori, eccetera, è la stessa cosa. Io quando sono al lavoro, porto me stesso con me comunque, non è che io rimango fuori e entra al lavoro un'altra persona. Non posso non considerare il collaboratore come una persona, olisticamente, ma non è solo una considerazione così, è che devo farlo questo lavoro. Il problema qual è? È che anche coloro che sono nei dipartimenti HR dell'azienda non hanno fatto il loro percorso di autoconsapevolezza. E quindi se tu non lo sei, come fai a chiederlo agli altri? Diventa un problema. E se, ecco, il lavoro dell'azienda è profondo, ma è la stessa cosa nelle scuole o nelle università, vedi? Quindi non è una questione se lo utilizzi per profitto o meno che cambia, perché le persone sono sempre quelle. Non cambia affatto. E questa è una funzione importantissima. E il mio team che si sta allargando continuamente, spero che un giorno saremo abbastanza per fare questa rivoluzione. È una rivoluzione interiore, è gandiana questa rivoluzione, mi segui? Cioè sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, ma lo devi essere tu, devi fare la tua parte. E non è tanto una parte sul fare, è sull'essere, devi lavorare sull'essere. Quindi quando facciamo così, iniziamo veramente a cambiare le cose. Se aspettiamo di cambiarle dall'esterno è come mettere un cerotto su una ferita, oppure cercare di fare un massaggio sul fegato quando continuiamo a bere due bottiglie di whisky a sera. Non risolviamo il problema. Se siamo interessati anche a un cambiamento sociale, oltre che individuale, dobbiamo comunque iniziare dall'individuo. Perché se iniziamo dal grande, dal tutto, continuiamo a puntare le dita. Voi, del vostro gruppo, potete benissimo continuare a puntare le dita. Ma guarda questa situazione che non va bene. No, avete deciso di fare il lavoro su di voi, creare l'Italia che cambia, proprio per cambiare anche l'esterno, anche la comunità. L'immaginario. E certo. C'ho un'altra curiosità su questo, ma vorrei passare intanto al... Hai citato prima il discorso della resilienza. Abbiamo parlato un po' di felicità, invece ci puoi dire come si coltiva la resilienza. Quante è un termine che adesso è usato spesso, a volte, è usato in abbondanza, ma è una cosa importante, insomma, l'essenza della resilienza non va assolutamente sminuita. Se ce lo spieghi e se ci puoi dire come si coltiva. La prima cosa che mi viene in mente quando parliamo di resilienza è il proposito. Perché quando tu hai un proposito chiaro, il proposito è un qualcosa di più grande di te, che si basa sui tuoi talenti e le tue competenze, e è supportato dai tuoi valori. Quindi se tu rifletti su un... Ecco, riparto dal mio, no? Dove è il problema? Integrare la scienza della felicità attraverso la scienza del sé in tutte le organizzazioni del mondo. Tu pensi che io ci riuscirò a integrare? Io, ok? Prima di morire, riuscirò a far questo, lo spero. Ma non è questo che mi interessa. Quello che mi interessa è incamminarmi verso il proposito. Perché il proposito è quella cosa che quando io mi sveglio la mattina mi fa saltare giù dal letto cantando. Perché? Perché io so che oggi ho fatto un passetto in più. Vedi, con te sto facendo un passetto in più. Perché? Perché io devo condividere con il mondo. Devo... Devo... È un desiderio che ho e questo desiderio è grande, è enorme. Quindi questo desiderio mi fa vivere, la scienza dice, fino a sette anni più a lungo. Sette anni più a lungo. Io ho il 21% di probabilità in meno di avere l'Alzheimer, malattie cardiovascolari, sono... ho più disponibilità dal punto di vista economico, divorzio di meno, quando io ho un proposito chiaro. Ma è evidente... e sono più felice, tra l'altro. Ma è evidente, no? Perché quando tu hai un proposito, tu vivi per quel proposito. Hai un qualcosa per cui vivere. La tua vita acquista tutto un altro significato. Allora quello ti dà la resilienza. Perché? Perché anche quando gli altri gli dicono ma che stupidaggine questa cosa che fai, a te non ti interessa. Perché hai questa guida interiore che ti porta avanti a prescindere. A prescindere. Quando io ho cambiato da professore di turismo a professore di felicità e di autoconsapevolezza, ma pensi sia stato facile? Ma dico... Cioè, ma sai quante... Ma ancora i colleghi non hanno idea e... Ma sai quante volte sulla rampa delle scale arriva il professore di felicità? Così? Così? Capisci? Quindi, allora, se io non avessi avuto un proposito sarei stato molto scoraggiato, no? Certamente non incoraggiato, ma non ci sento da questo punto di vista. Perché quando io so di essere allineato con la ragione per cui io sono venuto in vita, ma chi mi ferma? Chi mi ferma? E anche se mi fermi mille volte, ma io mi rialzo, riparto. Quindi il conoscere il proprio proposito, che comunque è la condizione essenziale, poi è comunque sapere i tuoi valori, quello che è più importante per te nella vita, eccetera, ti permette di essere molto resiliente. La resilienza si costruisce, ma si costruisce, e chiaramente non la puoi costruire quando sei in sopravvivenza, perché quando sei in sopravvivenza tutto quello che fai cerchi di scappare e di sopravvivere. Scappare poi dalla tua mente, dai tuoi pensieri, perché non c'è nient'altro lì, ma in realtà è così. E questo è quello che vorrei dire a tutti. In questo periodo, perché non fate un po' di lavoro sul proposito? Perché non iniziate a riflettere veramente su cos'è che vi guida, che vi entusiasma, che vi fa perdere la concezione dello spazio e del tempo, che ci sono dei momenti durante la giornata in cui noi perdiamo la concezione e lo spazio e il tempo, perché siamo talmente assorbiti da quello che facciamo che non ce ne rendiamo più conto. Bene, iniziamo a riflettere, iniziamo a scrivere, a fare un diario dei momenti di bliss, dei momenti dove noi stiamo talmente bene che magari stiamo pensando a qualcosa e ce lo scriviamo, magari stiamo facendo qualcosa, ce lo scriviamo, magari siamo con qualcuno che rappresenta qualcosa e scriviamo anche quello. Credetemi, se uno fa questo lavoro tutti i giorni, per tre o quattro mesi, io vi garantisco che voi conoscete il vostro proposto, i vostri valori, i vostri talenti, cioè iniziate a capire veramente chi siete in profondità. Ma non è questo il momento giusto per farlo? Se non ora, quando? Certo. Pochi giorni fa, su Italia che cambia, abbiamo accennato a una tua iniziativa che ci tenevo a presentarla al nostro pubblico stasera. Volevo ricordare, poi stiamo arrivando alla conclusione, ho già letto qualche commento, ringrazio i nostri utenti che stanno commentando, c'è un commento, è stato citato anche un altro libro, te lo dico, quello di Marshall Rosenberg, molto bello, sulla comunicazione non violenta, è un'altra lettura che consigliamo, veramente molto interessante, stimolante. l'iniziativa di cui parlavamo, si tagliare e cambia, si chiama Forti Insieme, abbiamo pubblicato un articolo pochi giorni fa, con l'occasione per ricordare a chi ci sta ascoltando adesso, cos'è, di cosa si tratta, presentacela. Molto volentieri. Grazie. Innanzitutto, tra l'altro, il libro Marshall Rosenberg, la sua tecnica è integrata nel mio libro di testo universitario, perché non può non essere integrata, è veramente, tra l'altro, una procedura che tiene proprio conto dell'intelligenza emotiva, dei bisogni, quindi in realtà è fantastica, perché mette insieme diverse competenze della scienza del sé. Forti Insieme, Allora, che cosa succede con Forti Insieme? Come hai notato, sicuramente non è solo il mio team, il sottoscritto, che ha sentito questo gran bisogno di dare. Io ho questo team di persone che hanno frequentato la masterclass sulla scienza del sé, che sono 90 ore suddivise in sei fine settimana, più altre 40 ore di tirocinio, di applicazione della scienza del sé nel pratico, e ormai siamo in conclusione del secondo anno, ed altri esperti che hanno vissuto la scienza del sé alla mia università qui e in altre occasioni, ci siamo messi insieme, ci siamo detti che cosa possiamo dare, qual è il bisogno, utilizziamo la scienza del sé per farlo, e quindi qual è il bisogno vero degli italiani? C'è un bisogno di certezza, c'è un bisogno di sicurezza, c'è un bisogno... Ok, quali sono le emozioni? Paura? Molto bene, ok, perfetto. Possiamo dar qualcosa? Assolutamente. Il metodo della scienza del sé funziona e lo sappiamo. Lo vogliamo testare ancora di più, una sfida ancora più grande, che nel giro di mezz'ora, 45 minuti, noi siamo in grado di far cambiare lo stato dell'essere di queste persone. Lo ripeto, lo stato dell'essere di queste persone. Come facciamo? Gli misuriamo lo loro stato emotivo all'inizio e alla fine. Molto bene. Chiaramente la misurazione è un'opportunità per dirti come poi abbiamo determinato se l'iniziativa stesse funzionando bene. Quindi abbiamo questo gruppo di 13 persone, tutti professionisti, dal notaio di Palermo alla commercialista di Lugano, tanto per darti un'idea di uno spaccato. Quindi sono persone che vivono la vita sul campo nel senso che non fanno le consulenti o le coach, sono persone che hanno le loro attività e hanno integrato la scienza del sé all'interno della loro vita, in famiglia e nelle loro attività. Perfetto. Allora, abbiamo chiesto quante ore mettete a disposizione? Abbiamo raccolto 400 ore 400 ore messe a disposizione. Perfetto. Allora, facciamo queste sessioni che non sono necessariamente passive, tutt'altro. La scienza del sé insiste su questo concetto che se tu sei d'accordo solo concettualmente o leggi un libro, eccetera, ti aiuta, però non vivi esperienzialmente il lavoro che devi fare. Allora, in questo massimo 45 minuti ci sono tutta una serie di domande che queste specialiste fanno, e dico specialiste perché sono tutte donne, praticamente io sono l'unico esemplare, e fanno queste domande per aiutare le persone a capire come si sentono, quali sono i bisogni insoddisfatti che hanno generato quell'emozione negativa, e poi passiamo invece alla parte dove si riprendono in mano la loro vita e dicono ma quali sono i miei valori, che cos'è importante per me, come posso allinearmi qui da casa, ora, in questo momento, a quello che è importante per me, cosa posso fare, dove posso andare, cosa posso progettare, per poi finire sul proposito e dire ma che rivita voglio lasciare io in questa vita, che cosa voglio, che impronta lascerò agli altri, al mondo, se io mi penso a 90 anni, a 95 anni, in una rilassata, tranquillamente, seduta a riflettere sulla vita, come mi voglio pensare? Ecco, vedi, questo è un percorso che in certi casi ci vogliono gli anni, giusto? Lo facciamo in 45 minuti, qual è il risultato, che dà una, una emozione, uno stato negativo dell'essere, al quale diamo un numero, il numero è 8, da 0 a 10, scendiamo a un 3,6, allora, tu spiegami come è possibile in 45 minuti che tu vai a toglierti la maggior parte del peso emotivo che ti tira giù, ok? Ora, non ti dico che quello sia sostenibile, eh, sia ben chiaro, perché chiaramente quelle emozioni ritornano, ma quello che vogliamo far notare agli altri è che c'è un metodo che ti permette di riprendere la vita nelle tue mani, ti permette di smetterla, di farti consumare tutte le energie dalle tue emozioni negative e poi trasformarle invece in emozioni che ti danno la forza e ti danno la spinta. Allora, se è possibile in tre quarti d'ora, ma pensiamo in mesi e mesi e mesi di clausura, se noi siamo coscienti e attuiamo alcuni di questi strumenti, quello che possiamo fare per noi stessi e per il mondo che ti circonda. Ti chiedo un'informazione pratica come provare questi 45 minuti come le persone come possono come possono fare? Basta che andate su sandroformica punto com o punto it e poi mettete una slash forti insieme forti insieme con una i sola quindi forti insieme e troverete tutte le informazioni chiaramente potete contattarmi su Facebook su LinkedIn che va bene lo stesso ma se andate direttamente su sandroformica punto it slash forti insieme poi trovate un modulino dove dite guarda io sono disponibile a fare questi 45 minuti gratuitamente e perché è solo gratuitamente non non abbiamo interesse se non aiutarvi in sostanza e poi ti racconto un altro episodio dietro le quinte riguardo a questo e quindi mettete nome e cognome quello che c'è da riempire e dicendo anche specificando le ore e i giorni che preferite e quindi poi c'è la mia referente italiana della scienza del sé Marina di Bitetto che poi distribuirà praticamente queste richieste a seconda della disponibilità del gruppo che ha donato e sta donando 400 ore ecco la cosa che ti volevo dire dietro le quinte chiaramente noi abbiamo una un whatsapp condiviso del del gruppo forti insieme e non posso dirti qual è la bellezza di quello che scriviamo lì perché ogni persona alla fine ogni collaboratrice del progetto forti insieme ogni qual volta finisce un'esperienza con qualcuno che si è scritto poi la condivide e veramente ecco no non riesci più a trovare la distinzione tra la gioia nel dare e nel ricevere perché non riesci più a capire dove si ferma una inizia l'altra non capisci cioè noi stiamo ricevendo talmente tanto con questa esperienza che è una cosa fantastica e poi parliamo di felicità cioè io ci vado ogni due tre ore a guardare quello che scrivono e scrivono delle cose che o mi commuovo o mi si apre il petto cioè voglio dire sta diventando una droga forti insieme per noi quindi nel dare quindi lo so che è una cosa stupenda e sai quali sono le obiezioni di alcune persone alle quali abbiamo detto che sappiamo sono interessate ma non c'è qualcosa sotto oppure ma no ma non è possibile ecco abbiamo ancora delle ore da donare ma voglio dire scrivetevi non c'è nient'altro da fare nient'altro non ti crediamo una carta di credito un impegno non ci interessa questo è il momento di dare di condividere e anche di continuare a testare un metodo che ormai dai banchi dell'università alle aziende ai singoli alle coppie alla persona al business sappiamo che funziona questo è stata un'altra opportunità per dire vediamo un po' quello che può fare la scienza del sé in 45 minuti quindi è stata una sfida che abbiamo voluto fare verso noi stessi per e nel contempo dare il più possibile agli altri e ne state ricevendo tanto insomma bello che bello e tanto ringrazio anche Ines che ci scrive che è felicissima di sentirci e colgo l'occasione soprattutto per ringraziare Vanessa Postacchini che ci ricorda un commento abbiamo affrontato all'inizio una parola chiave che happiness is an inside job è il lavoro è la felicità è un lavoro interiore credo che passi questo messaggio insomma da questa da questa da questa ghiacchierata e la ringrazio molto Vanessa perché è l'artefice di questa di questa dieta di stasera perciò concordo con te Vanessa sta facendo un lavoro straordinario sono molto molto grato e e veramente mi rendo conto quanto sia importante lavorare in team perché questo porta dei dei ma non so benefici di bellezza di bellezza della vita ecco quando noi riusciamo a vivere la vita pieno pienamente così dopo veramente la felicità non la devi ricercare perché la vivi la vivi minuto per minuto e ti volevo fare un'ultimissima curiosità personale a meno che non arrivino altre domande però io sarei felicissimo di ricevere qualche domanda dal pubblico nel frattempo nel frattempo se aspettiamo se qualcuno si fa avanti qualche coraggioso o coraggiosa riguarda un po' i media una buona considerazione anche la mia curiosità del giornalista credo uno dei noi quando Italia e Cambio è andata da un viaggio in camper fatto di sette mesi e sette giorni ma è andata anche prima di questo viaggio un'esperienza che da molto tempo si focalizza su un altro modo di fare il giornalismo non siamo i soli a farlo per fortuna questo questo sguardo diverso si sta diffondendo sempre di più la parte che un po' mi mi lascia dubbioso è che è vedere il resto il mondo dei media e soprattutto in questo periodo diffondere messaggi che la resilienza non la coltivano proprio per niente secondo me cioè c'è un un senso di diffusione di ansia paura sicuramente in parte è legittimo però rischia di diventare un po' macchiettistico no? diffondere solo quello e non diffondere messaggi di un altro tipo cioè come reagire come uscirne migliori da questo periodo lo trovo molto limitante non ti nascondo che mi dà un po' di labia in questo periodo e tu non su questo ma in generale felicità e mass media non so come sia la situazione anche negli Stati Uniti c'è una curiosità per capire cosa ne pensi e cosa secondo te sta passando dai giornalisti e dal mondo dei media su questo tema guarda io ti dico parto da questo nel 2008 quando mi sono trasferito in Florida ho tolto la televisione e non l'ho mai più messa allora la televisione diciamo era un punto di riferimento ora non c'è più bisogno ma insomma quindi già ti fa capire perché io entravo dal lavoro accendevo la televisione e mi addormentavo con la televisione accesa e chiaramente i messaggi erano almeno al 90% negativi poi dopo i messaggi negativi c'era il film con la violenza dove si sparano eccetera per cui in realtà la negatività regna come abbiamo detto in precedenza comunque c'è questo negativity bias quindi questo biasimo di negatività che ci ha fatto sopravvivere come specie e lo sappiamo che i media ci giocano ora tu dici non coltivano la residenza te la testano la residenza te la testano molto e è un bene per certi aspetti perché io io cado in questa trappola se vogliamo nel senso che ora sono diversi giorni che non mi fisso ma nel passato vorrei dire nel passato sempre di questo vivere chiuso dentro casa direi che almeno 6-7 volte al giorno andavo a contare qual era l'update su persone morte i paesi più difficoltà come è la situazione negli ospedali eccetera quindi vedete è una bellissima secondo me opportunità per testarci per dirci ascolta voglio essere dominato dall'ambiente esterno oppure voglio iniziare a coltivare sempre di più l'ambiente interno e questa è una scelta ecco l'autoconsapevolezza è tutto nella vita è proprio tutto perché nel momento in cui tu sei autoconsapevole prendi delle decisioni responsabili consapevoli cioè dici ok lo faccio so che mi faccio del male ma lo faccio ugualmente ok va bene è una tua scelta quindi secondo me del resto lo sai di quanti progetti sono falliti dei media delle buone notizie eccetera voglio dire quindi i media ci giocano io quello che dico non ti tolgono mai il potere ricordati non te lo tolgono mai ti danno ti mettono più ostacoli quindi la tua corsa non è una corsa semplice è una corsa ostacoli ok va bene impara a saltare salta l'ostacolo quando tu inizi a saltare gli ostacoli e poi gli ostacoli spariscono il post coronavirus diventa un gioco perché diventa una corsa fluida senza ostacoli quindi ancora meglio impara nei momenti di difficoltà è questo quello che chiedo agli altri perché i media faranno comunque quello che fa audience purtroppo grazie senti proprio una flash ultimissima non ci arrivano commenti comunque grazie anche ai nostri utenti che ci hanno seguito ai nostri lettori noi di solito quando incontriamo le varie persone le varie realtà intervistiamo abbiamo una domanda finale che facciamo a tutte e tutti che cos'è per te l'Italia che cambia non il nostro progetto ovviamente non devi parlare di noi ma devi parlare proprio di cosa ti fa pensare questo concetto per te che cos'è cosa ti fa pensare cos'è l'Italia che cambia per te io sono completamente di parte perché per me il cambiamento è positivo non può essere che positivo per quanto uno può criticare il sistema le cose che non vanno bene ma in realtà il cambiamento porta sempre soprattutto poi quelli percepiti come negativi portano sempre a una crescita interiore la crescita avviene attraverso purtroppo la maggior parte delle volte è la sofferenza quindi io ti dico secondo me qui c'è un ma non parlo solo del coronavirus sto parlando dell'Italia in generale cioè l'apprezzamento delle nostre risorse che prima non c'era cioè ti faccio un esempio i miei son di Spello a Spello c'era un anfiteatro romano dopo la guerra sono andati tutti a prendere le pietre dell'anfiteatro romano per costruire il gatto a loro ok ora questa cosa non esisterebbe ok in Italia quindi che cosa è è progresso è progresso fuori discussione cioè siamo più consapevoli capiamo più dove si trova il valore eccetera dopo che facciamo il percorso meno è una cosa diversa comunque io vedo un continuo miglioramento dell'Italia io se penso alle città su Roma non sono sicuro ma le altre città io le ho viste migliorate in maniera straordinaria Napoli che è una cosa spettacolare una Palermo spettacolare cioè le città dove avevo più paura di andare adesso sono le città che secondo me sono le più belle una Bari che è migliorata una Milano non ne parliamo quindi voglio dire per me sta cambiando in positivo bisogna avere pazienza e bisogna sempre dare l'esempio chiuso è questo quello che è importante dare l'esempio e avere pazienza perché è facile criticare guarda non è stata mai eretta una statua a chi critica di più ok le statue vengono erette a quelli che si mettono in discussione si mettono a nudo hanno il coraggio di essere vulnerabili e di combattere per i loro valori e il loro proposito per queste persone sì ci sono le statue per gli altri no quindi alla fine fondamentalmente se queste città sono migliorate se l'Italia apprezza di più i suoi punti di forza evidentemente qualcuno ha fatto qualcosa altrimenti non sarebbe successo e come voi quindi c'è solo da ammirare marina ha rimesso non vorrei aver sbagliato marina informazioni prenotazioni cancelletto forti insieme www.sandroformica.com slash forti insieme ok se in pratica sì basta andare sul sito sandroformica.com all'interno c'è una sezione forti insieme e lì potete trovare la possibilità dei 45 minuti video ai vostri amici non solo voi utilizzatelo ma i vostri amici con lei qualunque persona se vuole testarsi un pochino fare una piccola esplorazione interiore perché no fatelo non costa veramente niente bene sta a voi sta a voi grazie mille davvero passione del tempo che ci hai dedicato e grazie a chi ci ha ascoltato grazie Paola e ti amo una buona serata ciao Sandro ciao grazie ciao 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 ciao